Ci siete? Voi siete pronti? Posso evitare di farlo io? Non lo voglio fare. No! 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 Rutevi fuori di qui! Benvenuti a Prova Prova Sasà, lo show dove è tutto improvvisato. Questa sera con noi, Maccio Capadonda! Aurora Leone! Essere single è un po' come Dugarsi, a un certo punto devi smettere. Maria Di Piazze! Genio, mi faresti avere un carattere di merda solo durante il ciclo? Edoardo Ferrario! E ora mi parli di sua madre! I nostri quattro performer dovranno inventare delle scene su temi che gli darò io oppure che verranno suggeriti dal nostro pubblico. E lo faranno solo per renderci felici, perché i punti non contano niente. Tutti in piedi performer perché stiamo per giocare a... Occhio alle mani! È molto semplice. Edoardo non potrà usare le sue braccia. Sarà Maccio a prestargli le sue. E con questo che ci faccio? Ogni coppia ha un diverso oggetto che dovrà usare per improvvisare più scene possibili. Vieni! Gli imbucati! Tu sei la padrona di casa... Ciao, tu domini! ...che dovrai indovinare chi siano gli invitati. Che festa di merda! Conferenza stampa! Next question, please! Frick advisor! Ponte! 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 Ville! Sì! E io no! Dai! Improvviso, no? Tutto al momento veramente, ve lo giuro! Non è bellissimo? Particolario proprio!